In questo video vediamo tre comandi che, combinati attraverso le pipe, ti danno una potenza incredibile. Sto parlando di SED, GREP e AVK. Prima di continuare, ti ricordo che io faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Cominciamo da GREP. Intanto, una curiosità sul nome. Il vecchio editor ED, che sarebbe l'editor di testo originale del primo Unix, aveva un comando G per effettuare una ricerca globale nel file, che era seguito da un'espressione regolare, in inglese Regular Expression, in questo caso abbreviato con RE, seguito dalla lettera P, che sta par print, cioè visualizza. Questa funzionalità era talmente utile che è stato implementato un comando a sé stante ed è stato chiamato per l'appunto GREP. Quindi GREP ci consente di cercare stringhe all'interno di file di testo. Beh, in realtà non solo all'interno di file di testo, ma come avevamo visto nello scorso video, GREP ci permette di cercare stringhe di testo a qualsiasi cosa li passiamo nello standard input, funzionando quindi da filtro e mostrando su standard output solo le linee che contengono il testo cercato. Facciamo qualche esempio. Il file etc.passwd contiene informazioni riguardo agli utenti configurati nel sistema e come puoi vedere è un file che contiene molta roba. A questo punto io potrei essere interessato solo a quelle linee che contengono la parola bash. Mi viene in aiuto il comando GREP in questo modo. GREP seguito da cosa voglio cercare, per esempio bash, seguito dal nome del file, per esempio etc.passwd. E vedi che ora ci sono solo le due linee che contengono la sequenza di lettere B, A, S, H. È importante capire che il testo che cerchi è un'espressione regolare e non parole intere. Ora, le espressioni regolari esulano dall'argomento di questo video. Per il momento ti dico solo che devi pensare a quello che cerchi come una sequenza di lettere e numeri all'interno di una linea di testo. Finché non usi caratteri di punteggiatura come punto, parentesi, asterisco, ma ti limiti ad utilizzare esclusivamente lettere, numeri e spazi, allora l'espressione regolare corrisponde esattamente al testo da cercare. Quindi, per esempio, se fai un grep della stringa sola, otterrai come output tutte le linee che contengono il carattere S, seguito da O, seguito da L, seguito da A. Questo significa che avrai come output non solo linee che contengono la parola sola, ma anche linee che contengono la parola isola o la parola consolazione, per esempio. Altra cosa molto importante è che le espressioni regolari lavorano linea per linea, quindi non puoi cercare un testo in cui una parte su una linea e una parte sulla linea successiva. Ma torniamo al nostro grep. Se omettiamo il nome del file nella linea di comando, questo significa che cercherà all'interno dello standard input. Per esempio, lo stesso comando di prima può essere espresso con un cut del file, pipe, grep e poi quello che vogliamo cercare, per esempio bash. Ci sono persone che quando vedono il comando cut e poi un pipe con grep, inorridiscono e subito urlano «Uso inutile di cut!». Io invece sono dell'idea che funzionano entrambi, e quindi vanno bene entrambi. Ma non solo. Visto che il bello della linea di comando sono proprio le pipe, iniziare con un comando cut, secondo me, ti porta già nella mentalità di effettuare l'operazione desiderata facendo pipe a più comandi. Ad ogni modo, grep può anche funzionare al contrario, cioè mostrare solo quelle linee che non contengono l'espressione regolare data. Per esempio, se voglio mostrare linee che non contengono free, farò un pipe con grep, dandogli l'opzione «-v», che significa inverti, seguito dall'espressione regolare, per esempio free. E vedi che questa volta ho come output solo più la linea corrispondente a root. Abbiamo quindi visto che grep è uno strumento potentissimo per cercare string all'interno di file di testo. Volendo, grep può cercare anche all'interno di più file, ma per questa operazione preferisco usare il programma RIPGREP, che vedremo in un prossimo video. Passiamo ora a sed. Hai presente come grep ha avuto origine dall'editor ed di Unix? Bene, sede non è nient'altro che l'editor ed di Unix, ma non interattivo. E la domanda che ti starei facendo in questo momento è «Ma io che me ne faccio di un editor non interattivo?» E la risposta è «Nel 99% dei casi lo usi come strumento di trova e sostituisci». Come esempio partiamo dal comando ls-l. Vedi che su ogni linea c'è la free ripetuta due volte, che sta ad indicare il proprietario ed il gruppo dei vari file. Se io volessi cambiare tutte le occorrenze di free con asdrubale, il comando da dare è ls-l pipe sed s che sta per sostituisci, poi un carattere che serve come delimitatore, per convenzione la barra, ma in realtà puoi metterci qualsiasi carattere, per esempio il carattere di cancelletto o la chiocciola vanno bene lo stesso. Dopodiché, metti l'espressione regolare del testo da sostituire, in questo caso le lettere F, R, I, poi lo stesso carattere separatore che abbiamo usato prima, quindi in questo caso barra, seguito dal testo con cui vogliamo rimpiazzare, quindi in questo caso asdrubale, seguito infine dallo stesso separatore di prima, quindi in questo caso barra. nota come il comando sed ha sostituito solo la prima occorrenza della sequenza di caratteri F, R, I all'interno della linea, ma ha lasciato intatte tutte le occorrenze successive. Giusto per chierirci, non è che dopo aver dato questo comando ho fatto cambiare proprietario del file, ho semplicemente preso l'output del comando ls-l, l'ho trattato come normalissimo testo ed ho sostituito una sequenza di lettere all'interno di quel testo, niente di più. Scusa se questo ti sembra ovvio, ma preferisco essere chiaro. Dicevo, se voglio sostituire tutte le occorrenze all'interno della linea, basta aggiungere una G finale dopo l'ultimo separatore. Il carattere G sta per globale, cioè sostituisci tutto. E vedi che ora tutte le sequenze di lettere F, R, I sono state sostituite con asdrubale. Oltre che in una pipe, sed permette di operare anche direttamente su file. Basta mettere il nome del file alla fine del comando. Per esempio, se io vado a vedere il file test.txt che si trova nella directory scrivania, potrei voler cambiare il testo prova1 con test. Quindi scriverò sed s barra prova1 barra test barra g seguito dal nome del file, quindi scrivania test.txt. Cosa è successo qui? Sed ha letto il contenuto del file, ha fatto le modifiche e ha scritto su standard output il testo modificato. Nota come il file originale sia rimasto invariato. Se io invece voglio applicare la sostituzione modificando il file originale, allora debbo usare l'opzione "-i". E vedi che ora su standard output non c'è niente, e se vado a leggere il file originale, mi ritrovo le modifiche che volevo. Ed arriviamo infine ad avk. Avk è un linguaggio di programmazione vero e proprio, con una sintassi molto simile al linguaggio C. In questo video vediamo solo uno dei possibili utilizzi di avk, che poi è anche quello più usato. Allora, avk tratta il testo come una tabella. Ogni linea di testo nella terminologia di avk si chiama record, ed ogni linea è suddivisa in campi, o in inglese field. Di default il separatore di campi, o in inglese field separator, sono i caratteri di spazio e di tab. Quindi di default avk separa le parole all'interno delle linee, e le mette in delle variabili. La variabile $0 corrisponde a tutta la linea. La variabile $1 corrisponde al primo campo, la variabile $2 al secondo campo, e così via, fino alla $nf, che sta per number of fields. Un programma avk è composto da una sequenza di pattern e azioni. Il pattern è delimitato dal carattere barra e contiene un'espressione regolare. L'azione è delimitata da graffe e viene eseguita su tutte quelle linee che matchano il pattern, cioè tutte quelle linee che hanno la sequenza di carattere descritte nell'espressione regolare. Il pattern o l'azione possono anche essere omessi. Se non ometti il pattern, allora l'azione viene eseguita su tutte le linee. Se non ometti l'azione, allora l'azione di default è print, cioè visualizza la linea matchata su standard output. Di fatto, se ometti l'azione, avk si comporta esattamente come grep. L'unica azione che vedremo in questo video è print, che serve a visualizzare stringhe di testo su standard output. Se tutto questo ti sembra complicato, non ti preoccupare, vedrai che con un esempio sarà tutto più chiaro. Partiamo sempre dal nostro ls-l. Se io ora voglio visualizzare la prima, la terza e l'ultima parola delle linee che contengono s maiuscola c, scriverò ls-l, pipe, avk, barra che significa inizio del pattern, s maiuscola c, barra che significa fine del pattern, graffa aperta che significa inizio dell'azione, print per visualizzare su standard output, dollaro 1 che significa primo campo, dollaro 3 che significa terzo campo e dollaro nf che significa ultimo campo, graffa chiusa che indica fine pattern. Dall'output capisci tu stesso cosa è successo. Ah, una cosa importante che non ho detto per tutto questo video. Avrai notato che tutte le espressioni che ho usato in grep, sed e avk sono racchiuse tra singoli apici. Soprattutto in avk è importante racchiudere le espressioni tra singoli apici, altrimenti la shell espanderebbe le stringhe dollaro 1, dollaro 3 e dollaro nf con delle variabili d'ambiente e l'unico modo per dire alla shell che vogliamo usare delle stringhe che al loro interno contengono il carattere dollaro è quello di racchiudere l'espressione tra singoli apici. I doppi apici in questo caso non funzionano. È vero che ne avevamo già parlato in uno scorso video, ma ci tengo a ricordarlo visto che qui è importante. Avk avevamo detto che il default separa i campi con degli spazi, ma possiamo anche specificargli quale carattere usare come separatore. Per esempio, il file passwd che avevamo visto all'inizio del video è delimitato dal carattere due punti. Vediamo anche che il terzo campo corrisponde allo user id numerico. Se io voglio quindi visualizzare solo lo user id numerico di tutti gli utenti che hanno la shell bash, al comando di prima faccio un pipe, avk, meno F maiuscola per indicare un separatore campo differente dagli spazi, carattere due punti per indicare il separatore di campo, poi per l'espressione graffa aperta che significa iniziazione, visto che avevamo messo il pattern significa per tutte le linee dello standard input, print per visualizzare su standard output, $3 per il terzo campo, chiusa graffa per fine pattern. E vedi che come output ora ho solo gli user id 0 e 1000. Prima di concludere il video vorrei solo accennarti che esiste un comando chiamato cut cut taglia, che serve proprio per visualizzare su standard output solo alcuni campi di un testo. Tuttavia io preferisco usare sempre avk al posto di cut perché avk gestisce correttamente spazi multipli. Guarda per esempio l'output vls-l dove tra il campo del gruppo e quello della dimensione del file c'è più di uno spazio per poterle allineare dei stori numeri. Il comando cut in questo caso non funzionerebbe per niente. Ricapitolando. Con grep filtri lo standard input e ti ritrovi nello standard output solo le linee che ti interessano. Con sed puoi fare delle sostituzioni al testo e con avk ti prendi solo i campi di testo che ti interessano. Tutto questo unito alle pipe ti dà una potenza invidiabile. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su youtube che su odyssey. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao. Il vecchio editor ed che sarebbe l'editor ed... Iniziamo già. E la domanda che ti stai facendo in questo momento... A presto. A presto.